Rieccoci qui. Ecco qua. Allora, l'altra volta vi ho fatto vedere come... vi ho fatto una recensione. Adesso vi dico come scaricarlo. SAR, Excalibur e Realtu. Prima di tutto dovete scaricarvi BitTorrent. Ovviamente vi lascerò il link di questo sito, di BitTorrent e anche di WeRar che vi servirà. Vabbè, lascervi il link e scaricatelo da qua. Poi, quando avrete scaricato BitTorrent dovete andare su questo sito e cliccare qui. PCGame.it, etc. Quando vi uscirà questo... Io... mi piace portarlo sul testo. Vabbè. No. No. Allora, no. Vi uscirà questa qui. Quando... allora, comincerà a scaricarvelo. Quando sarà... avrà finito di scaricarvelo, voi estraete questo file con WeRar e avrete una... avrete una cartella. Questa qui. Tranne questo... Vabbè, sono anche eliminato. Ecco qui, tutti i cartelli, campagne, demo... E dovete cliccare su ZAR. Se non vi funziona, perché a me è successo, dovrete fare setup. Perché io, quando l'ho aperto, non mi caricava. Perciò ho fatto setup. Ho modificato un po'... Appunto... Ho modificato un po' il gioco. Tipo... La grandezza dello schermo e varie cose. Che ora non mi ricordo. Quindi, se vi funziona, meglio. Poi, se non vi funziona, fate setup. E dopo, quando avrete fatto gioca, vi ci dà il gioco. E poi dopo potrete anche giocare da azzaro. Non c'è bisogno di andare stessi sempre su setup. Vabbè, io in poche parole vi ho detto come scaricarlo. Spero che avete capito. E se non avete capito, qui sotto potete scrivere tutto quello che volete. Commenti, spiegazione, e vabbè. Vabbè, io ho finito qui. La PCG è tutto. Ciao belle.